Concluso all'alba un intervento di ricerca e soccorso sul Monte Polveracchio a Campania da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Sperologico della Campania. L'allarme è arrivato intorno alla mezzanotte da parte dei carabinieri di Campania per un ragazzo di 24 anni del posto che aveva deciso di trascorrere la notte in tenta sul Monte Polveracchio. Il forte vento però ha spazzato via la tenda lasciandola alla ghiaccia con il solo sacco a pelo. Il giovane a questo punto spaventato ha chiamato la famiglia che a sua volta ha allertato i carabinieri. Subito sono partiti i tecnici del Soccorso Alpino e Sperologico della Campania alla volta del Monte per raggiungere il ragazzo. Allo stesso tempo è stato anche richiesto l'intervento della notatica militare che ha fatto decollare un velicolo da pratica di mare. La squadra di terra si è incamminata lungo i sentieri verso la vetta del monte. Intanto l'elicottero ha caricato a bordo un tecnico degli alpini e si è diretto verso il punto segnalato accalato. Quindi il tecnico con il vericello e visto che il giovane non presentava problemi sanitari ha recuperato entrambi. Il ragazzo è stato trasportato fino al campo sportivo di campagna e lì consegnato ai carabinieri.